Buongiorno e benvenuti al consueto appuntamento delle 12.30 con l'informazione su Telefriuli. La Diocesi di Trieste condanna fermamente gli atti di terrorismo islamo-jadista che hanno insanguinato lo Sri Lankan, colpendo soprattutto i cristiani che nel giorno di Pasqua si trovavano raccolti nelle chiese a celebrare la risurrezione del Signore Gesù. Atti di morte mentre si celebrava la vita e l'amore divini. I kamikaze che si sono immolati in nome di Dio per uccidere altri uomini non hanno compiuto altro che atti di profanazione e di bestemmia. È quanto afferma in una nota la Diocesi di Trieste, esprimendo la sua fraterna vicinanza e l'assicurazione della propria preghiera ai cristiani dello Sri Lanka dopo gli attentati di Pasqua. Veniamo alla cronaca. È ancora mistero sulla sorte del 47enne di Maniago scomparso ieri pomeriggio durante un'escursione ad alta quota. L'uomo avrebbe dovuto raggiungere Forcella-Navalesk percorrendo un difficile percorso che presenta un dislivello di circa 1600 metri. Partito alle 10 del mattino non avrebbe più dato notizie di sé. Nel pomeriggio, non vedendolo arrivare e notando il cellulare spento, i familiari hanno lanciato l'allarme. Le ricerche iniziate nel tardo pomeriggio di ieri sono riprese questa mattina, nonostante la pioggia. Al momento nulli gli sforzi delle varie squadre di soccorritori all'opera. La Guardia di Finanza di Trieste ha sequestrato 465 cartoni di sigarette di marca Royal Orchid Classic a seguito di un'anomala situazione riscontrata circa al destinatario della spedizione. Il carico, oltre 6 tonnellate, era stivato in un container indirizzato a una persona esistente solo sulla documentazione di accompagnamento. È stato ricostruito un quadro che vedeva l'utilizzo cartolare di società ignare o inesistenti, col fine di introdurre nel territorio le sigarette di contrabbando. Le bionde sequestrate avrebbero reso quasi 3 milioni di euro, fra diritti evasi e illecito profitto, senza considerare i rischi per la salute a cui sarebbero stati esposti i consumatori finali. Erano state prodotte, infatti, con l'utilizzo di tabacchi di dubbia provenienza, senza alcun rispetto degli standard di qualità che prevede l'Unione Europea. Le sigarette sono state distrutte. Diversi gli incidenti stradali nel pomeriggio di Pasquetta e nella notte, tutti per fortuna senza gravi conseguenze a livello sanitario. A Pozzuolo, in via Udine, all'altezza del Night Club Parco delle Rose, una ciclista è stata travolta da un'auto ed è rovinata sull'asfalto. È stata trasportata all'ospedale di Udine, non è in pericolo di vita. A Corno di Rosazzo, in via Forum Iuli, incidente per una motociclista veneta caduta sulla due ruote. Ha riportato la frattura di una spalla ed è stata portata in ospedale. Ad Ampezzo, un centauro ha perso il controllo dello scooter ed è rovinato sull'asfalto e successivamente contro il guardrail. È stato trasportato all'ospedale di Tolmezzo, non è in pericolo di vita. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri. Una brutta scoperta ieri sera intorno alle 22 a Trieste. I vigili del fuoco del comando Giuliano hanno fatto ingresso in un appartamento dove era stata segnalata una persona anziana che non dava notizie di sé da parecchi giorni. Purtroppo era deceduta. Si tratta di una pensionata di 70 anni. A dare l'allarme è stata una vicina che si accorta che l'ultimo accesso di WhatsApp dell'amica risaliva al 16 aprile. La donna si è allarmata e ha fatto scattare la macchina dei soccorsi, purtroppo inutili. L'Adria l'opera anche nel giorno di Pasquetta. A finire nel mirino dei malviventi, due espositori che hanno preso parte al mercato dell'usato e dell'antiquariato ha restito in Piazza Grande a Palmanova. Da uno degli stand, infatti, è stato sottratto il portafoglio degli obbisti che conteneva circa 500 euro in contanti. Vittima una coppia Giuliana che ha denunciato il furto ai carabinieri di Palmanova. I peluche friulani della Trudi potrebbero presto sbarcare in borsa. Non direttamente, però. Secondo i discrezioni del Sole 24 Ore, l'azienda di Tarcento sarebbe nel mirino di giochi preziosi, pronta per la quotazione a Piazza Affari. Dopo 15 anni, i peluche della Trudi di Tarcento potrebbero cambiare proprietà. Secondo indiscrezioni pubblicate nei giorni scorsi dal Sole 24 Ore, Giochi Preziosi sarebbe addirittura d'arrivo nella trattativa per rilevare da carisma la storica fabbrica friulana. I peluche sarebbero così inseriti in un progetto di espansione per il quale il gruppo fondato e presieduto da Enrico Preziosi potrebbe anche decidere di rinviare all'ultimo trimestre dell'anno la quotazione a Piazza Affari. L'acquisizione della Trudi di Tarcento, infatti, si accompagnerebbe ad un'altra e ben più rilevante operazione di livello internazionale. Sempre secondo le indiscrezioni del Sole 24 Ore, Giochi Preziosi, è prossima anche all'acquisizione del maggior gruppo del settore dei giocattoli spagnoli, la famosa Toys Sa. I peluche friulani andrebbero così a far parte di una grande famiglia di giocattoli per bambini di dimensioni internazionali. D'altra parte, proprio la proiezione internazionale era stata una delle molle che 15 anni fa aveva spinto la famiglia patriarca, fondatrice della Trudi, e il fondo Giada, controllato della finanziaria 21 investimenti, a cedere l'azienda friulana alla pala di Incarisma S.p.A. del gruppo Bene Company Italy. In quel momento la Trudi era in una fase di forte rilancio che aveva impegnato la famiglia patriarca e la finanziaria Veneta in un progetto d'allargamento della gamma dei prodotti, oltre che di internazionalizzazione e rifocalizzazione gestionale. Sicuramente nei prossimi giorni si potrà capire quali sono o potranno essere gli obiettivi di un passaggio di proprietà che al momento ha colto tutti di sorpresa, a cominciare dai dipendenti dell'azienda friulana. Nel clima di attesa resta la possibilità che i peluche possano sbarcare in borsa, anche se non direttamente, ma all'interno di un grande gruppo. Nell'ambito del potenziamento delle proprie attività nei settori ad alto contenuto tecnologico, Fincantieri ha acquisito una quota di maggioranza del capitale di Insys, società con sede a follo in provincia di La Spezia, attiva nei settori dell'informatica e dell'elettronica. Insys ha nuova competenze per sviluppare prodotti e servizi in aree come le telecomunicazioni, l'information technology e la cyber security. In questi settori la società è riconosciuta per l'alto contenuto tecnologico dei propri prodotti. Ha registrato nel 2018 ricavi pari a 51,7 milioni di euro, con una previsione di forte crescita per il 2019. Impiega complessivamente circa 100 persone. Questa operazione consente a Fincantieri di avere accesso diretto a un bacino di risorse altamente qualificate, creando un centro di eccellenza ad altissimo contenuto tecnologico dedicato all'ingegneria dei sistemi di difesa. Questa acquisizione, commenta l'amministratore delegato di Fincantieri Giuseppe Bono, si inquadra nel disegno di sviluppo di un polo di eccellenza di Engineering and Technology Services, settori chiave per l'innovazione, vero pilastro della capacità competitiva, e ci consentirà di accrescere competenze che già ci contraddistinguono, creando sinergia al nostro interno. Si inserisce inoltre nella strategia di consolidare una filiera con le aziende di piccole e medie dimensioni, conclude la D, che saranno coordinate nel polo, all'interno del quale ognuno manterrà il proprio management, rafforzando così quello del nostro gruppo. La Lega del Friuli Venezia Giulia ha presentato questa mattina al Caffè Contarena di Udine i propri candidati alle elezioni europee del 26 maggio. All'incontro con i giornalisti è intervenuto anche il governatore Massimiliano Fedriga e l'assessore regionale Pizzimenti a dire chi schiererà il carroccio. Lizzi Adreosto e i candidati alle europee per la Lega Nord, Graziano Pizzimenti, quali sono gli obiettivi del gruppo? Prima di tutto dobbiamo dire che sono due friulani che vengono candidati, che hanno buone possibilità, anzi ottime, quindi un grande momento per la Lega e un grande momento per la nostra regione. Io spero e penso che tutti e due possano farcela e sarebbe un grande vantaggio, non solo ovviamente per loro che andrebbero a un'esperienza estrema, positiva eccetera eccetera, ma anche per il territorio e soprattutto per il nostro Friuli Venezia Giulia. Quindi noi puntiamo a questi due candidati, Lizzi Adreosto, perché sappiamo la bontà e anche la qualità che hanno loro, perché hanno fatto una grande esperienza come amministratori, grande capacità e noi siamo fiduciosi fino in fondo. Un gruppo compatto qui per la presentazione questa mattina? Assolutamente sì, siamo praticamente tutti gli assessori della Giunta, questo vuol dire che siamo un gruppo compatto, c'è il Presidente in prima fila, quindi vuol dire che la Lega c'è e sul nostro territorio la Lega conta. Siamo alla pagina degli spettacoli, ha scritto decine di canzoni indimenticate che hanno avuto un successo internazionale e che sono state affidate all'interpretazione di cantanti particolarmente amati dal grande pubblico, tra tutti Lucio Battisti. Mogol, pseudonimo di Giulio Rapetti, autore, produttore discografico e scrittore italiano, sarà al Palmanova Outlet Village il prossimo 18 maggio alle 18.30. Inaugurerà Musica e parole, il nuovo format targato Village. In un contesto intimo e accogliente, spiega la marketing manager Giada Marangone, gli artisti si presenteranno al pubblico alternando aneddoti di vita quotidiana all'interpretazione delle loro canzoni più famose. Mogol iniziò la sua carriera di autore nel 1961 e vinse subito il Festival di Sanremo con Al di là, scritta assieme al compositore Carlo Donida e interpretata da Luciano Taglioli e Betty Curtis. Nel 1965 iniziò a collaborare con Lucio Battisti, considerato uno degli artisti nazionali di maggior pregio negli anni 70 e 80. Mogol fondò anche la Formula 1, etichetta discografica italiana che riuscì in breve tempo a competere con le multinazionali per il numero di dischi italiani venduti. L'ingresso all'appuntamento del 18 maggio è gratuito. E il Teatro Palamostre di Udine ha ospitato lo spettacolo di Mario Matrone dal titolo Tango Glaciale Reloaded. Una casa con tre suoi abitanti che la rivisitano in ogni angolo per un'avventura domestica in continua trasformazione nel tempo e nello spazio, dall'antica Grecia all'America anni 40. È l'ambientazione su cui Mario Martone, regista teatrale, cinematografico e sceneggiatore napoletano, ha creato e diretto Tango Glaciale Reloaded, spettacolo della stagione Teatro Contatto 37 del Centro Servizi e Spettacoli, andato in scena al Teatro Palamostre di Udine con produzione della Fondazione Teatro di Napoli, Teatro Bellini e Fondazione della Danza Arte Balletto. Era il 1982 quando Mario Martone, appena 22enne, firmava la regia di Tempo Glaciale, spettacolo manifesto di ricerca teatrale ma non solo, che ha sintetizzato una parte delle istanze rivoluzionari degli anni 70 e che girò il mondo. A New York lo videro Andy Warhol, Marte Scorsese e Laurie Anderson, dieci anni prima del successo sul grande schermo del suo film Morte di un matematico napoletano. Tango Glaciale, ossimoro di fuoco passionale e freddo ordine, mise insieme più di una disciplina in un campo comune, senza troppi confini e in continuo mutamento. A 35 anni di distanza, un reload riavvolge il nastro di questa memoria riproponendo uno degli spettacoli cult del teatro di ricerca italiano degli anni 80, offrendo allo spettatore una carellata visiva di 60 minuti a ritmo di jazz, piazzolla e new wave. Con elaborazioni videografiche prodotte su montaggi di filmati e diapositive, la scenografia si snoda su 12 ambienti con altrettanti diversi episodi, con i tre talentuosi performers che ballano, vivono ed ironizzano con cambio di scena ogni 5 minuti. Siamo allo sport, continua la difficile corsa alla salvezza dell'Udinese. Fallito l'appuntamento con la Vittoria sabato scorso, i bianconeri devono preparare al meglio il posticipo di lunedì sera contro l'Atalanta, con un occhio in casa delle ultime, ma anche alle notizie della propria infermeria. Inizia un'altra settimana di passione per l'Udinese di Tudor, che dopo le sconfitte nella doppia trasperta romana ha fallito l'appuntamento con la Vittoria al Friuli sul Sassuolo. Il punto conquistato tiene Lempoli a distanza, ma non può far dormire sonni tranquilli ad una squadra che avrebbe dovuto lottare per la vittoria. A 5 giornate dalla fine è ancora impossibile individuare la quota salvezza e il calendario delle ultime giornate tiene aperti i giochi. L'Udinese a questo punto deve sperare anche nelle disgrazie altrui, in particolare dell'Empoli, che potrebbe pagare a caro prezzo la sconfitta casalinga contro la Spal. La squadra di Andrea Zoli ha un nuovo appuntamento da non fallire domenica a Bologna, nello scontro diretto contro i Felsinei. Una vittoria terrebbe aperta la corsa salvezza, una sconfitta potrebbe significare un piede e mezzo nella fossa. L'Udinese, al di là di tutto, deve pensare a fare punti a Bergamo in una trasferta che si annuncia davvero difficile. La vittoria in casa del Napoli, infatti, rilancia i sogni di Champions di Gasperini e dei suoi ragazzi, che difficilmente si faranno distrarre dalla gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia in calendario giovedì contro la Fiorentina. La squadra nerazzurra gira e può contare sull'ex Zapata, che nel confronto dell'andata rifila una tripletta ai suoi ex compagni. Tudor attende buona e nuove dall'infermeria. Nel pomeriggio si attendono i risponsi sulle condizioni di Fofanai e Kong, usciti e ciaccati sabato. Per il centrocampista ivoriano il recupero sembra difficile, visto che per lui si prospetta uno stiramento. Filtra invece ottimismo sulla disponibilità dell'olandese, che da settimane stringe i denti a causa di problemi muscolari. La sua presenza sarebbe importante, anche perché l'assenza di Opoku dovrebbe prolungarsi ancora. Buone notizie però da Nighting, che dovrebbe tornare titolare, consentendo così all'allenatore più soluzioni in difesa. Il tecnico croato ha davanti a sé una settimana intera per individuare la formazione migliore per un appuntamento difficile, ma tutto da giocare. Per il Tg è tutto. Vi ringrazio per la cortese attenzione e vi lascio con A voi la linea. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Grazie a tutti. Grazie a tutti.